Ancora una novità per questa edizione 2017 del campionato regionale di salto ostacolo in Piazza di Siena, questa sarà la proiezione in 3D del percorso di Stefano Belantonio, Marco Latini e Andrea Bruno inerente alla finale dell'assoluto di secondo grado Young Rider. Si parte con un passaggio di sentiero 1,30 x 1,35 di profondità per andare ad affrontare poi in una leggera linea diagonale il primo verticale, l'altezza è di 1,37 m, ancora un verticale però questa volta passiamo ad un'altezza di 1,40 per andare ad affrontare una leggera curva proprio di fronte all'ingresso dell'ovale di Piazza di Siena dove è situato un passaggio di sentiero a variere pari 1,40 x 1,50 di profondità. Linea diagonale e si affronta così la prima combinazione, la numero 5, passaggio di sentiero verticale 1,38 per l'ingresso per 1,42 m, l'uscita del verticale è ancora un passaggio di sentiero 1,40 per andare a variere pari per 1,55 di profondità, in linea c'è il verticale su Fosso che ha un'altezza pari ad 1,42 m. Si cambia mano e si va ad affrontare così la seconda combinazione che è la doppia gabbia identificata al numero 8 è composta da un verticale 1,40 m all'ingresso, 1,38 per 1,40 il passaggio di sentiero, 1,40 per 1,50 la profondità dell'elemento C. Linea trasversale, si affronta così il verticale numero 9, 1,43 la sua altezza e si cambia nuovamente mano per andare ad affrontare così. Siamo giunti verso la parte finale di questa prima manche, il passaggio di sentiero numero 10, 1,40 a variere pari per 1,50 di profondità. Ed in linea abbiamo così gli ultimi due ostacoli, il verticale numero 11, 1,43, la sua altezza è il passaggio di sentiero conclusivo 1,42 per 1,55 e questo è appunto nel dettaglio il racconto tecnico della prima manche dell'assoluto di secondo grado.